Con Pietro Berrettini, detto Pietro da Cortona, dal luogo di origine e di provenienza, chiudiamo il cerchio della grande arte barocca, cerchio che era già stato definito nel Settecento, per esempio, da Francesco Milizia, come vedete in questo passo che vi riporto. Milizia parla in senso negativo dei grandi del barocco, Borromini in architettura, Bernini in scultura, Pietro da Cortona in pittura e lui aggiunge il Cavaliere Marino in poesia sono peste del gusto, peste che ha appestato un gran numero di artisti e poi va avanti a chiarire per quale motivo si deve considerare l'arte barocca la peste del gusto. Però è evidente che già alla fine del Settecento, all'inizio del Settecento, era chiaro quali erano i capisaldi, quali erano i protagonisti assoluti di questa stagione. Quindi Borromini, Bernini, Pietro da Cortona chiude il cerchio perché Pietro da Cortona è un artista eclettico esattamente come Bernini ma sarà fondamentalmente un pittore, sarà un decoratore, sarà un illustratore, sarà un ideatore di sculture oltre che un architetto. Ideatore di sculture nel senso che immagina delle sculture, descrive delle sculture e fa realizzare ad altri esattamente come Bernini era stato un pittore solo dilettante. Probabilmente questo mancato sconfinamento nel campo privilegiato l'uno dell'altro fa in modo che i due si trovino molto bene insieme. A differenza di Borromini, Cortona, giunto a Roma al seguito di Commodi, che era un pittore abbastanza mediocre, un pittore fiorentino che li faceva in quella fase da maestro, viene a contatto con tutta una serie di personaggi importanti, anche con Bernini, di cui sarà complementare perché sembrano trovarsi molto bene, molto bene insieme completarsi in qualche modo. Nel 1620, appena 24enne, Cortona arriva a Roma, entra al servizio del marchese fiorentino Marcello Sacchetti e grazie a questa conoscenza viene a contatto di una serie di personaggi importanti, sempre della cerchia evidentemente degli illustri fiorentini a Roma, tra i quali c'è Maffeo Barberini, futuro urbano ottavo, che abbiamo visto essere tanto importante e sarà poi tanto importante anche per Bernini. Questa conoscenza sarà fondamentale perché appunto gli aprirà le porte alla grande decorazione. Vedremo che la prima opera di svolta, l'opera fondamentale di svolta, sarà commissionata a Cortona nel 25, anche se realizzata tra il 33 e il 39, proprio per Palazzo Barberini. In questa fase, appena arrivato a Roma, Pietro Berrettini mostra la sua indole, non si interessa ad esempio della querelle tra naturalismo caravaggesco, classicismo caravaggesco, prende da ognuno dei suoi modelli ciò che gli interessa e fa quello che poi diventerà comune, normale, nei viaggi a Roma per tutti gli italiani ma anche per gli stranieri, cioè si dedica fondamentalmente allo studio dell'archeologia classica, quindi allo studio degli elementi del mondo romano e greco e allo studio dei grandi predecessori, soprattutto del Grande Rinascimento, quindi Michelangelo soprattutto in Vaticano, nella Cappella Sistina e poi Raffaello delle Stanze Vaticane, ma con una serie di esempi anche più ampia, tanto che lui riuscirà a fondere tutte queste indicazioni in uno stile molto magneloquente, in uno stile teatrale, con una fortissima sensibilità per la drammatizzazione della scena, enorme ricchezza del colore, opulenza dei dettagli, effetti di luce, che ci fanno dire che i suoi modelli fondamentali in questo momento, oltre ovviamente a Raffaello e Michelangelo, saranno artisti del calibro di Rubens o di Guercino, quindi una pittura che si sta formando e che diventerà un vero e proprio veicolo di promozione trionfale e quindi il veicolo ideale per quello che poi sarà Urbano VIII, Maffeo Barberini che diventerà Urbano VIII e resterà Papa dal 23, dal 1623 fino al 1644, che è la data della sua morte, che avrà proprio la necessità di esaltare l'istituzione pontificale e con l'istituzione pontificale ovviamente esaltare se stesso, la sua famiglia, il suo nome. Queste indicazioni le vediamo già in un'opera di questo tipo, questa è un'opera che viene realizzata alla fine degli anni 20 proprio per il marchese Marcello Sacchetti, è il Ratto delle Sabine e in quest'opera vediamo ciò che abbiamo anticipato, cioè un'enorme opulenza del colore, anche una densità e una brillantezza del colore, addirittura in certi casi trattato con modi quasi tizianeschi, un'attenzione al bagliore, al barbaglio di luce che sicuramente deriva da Rubens, una magniloquenza nei gesti, nei modi, anche questa assolutamente rubensiana, insieme a uno studio del dettaglio, della citazione archeologica, vedete per esempio l'obelisco sullo sfondo, tutta una serie di oggetti, le armi, gli scudi, le armature, la scultura che vedete su di un lato, il tempio sul lato opposto, quindi una serie di citazioni potremmo dire della grammatica romana e greca molto efficaci e insieme a questo appunto questa tendenza alla magniloquenza, alla mobilità, alla rapidità della pennellata e alla dinamizzazione della scena, tutti elementi appunto che ritorneranno nella sua produzione matura. La svolta tra l'altro è abbastanza evidente che Pietro Berrettini non ha nessun problema a fare una commistione, a mescolare gli esempi come era già stato per esempio per Rubens, se vi ricordate, cioè l'idea di prendere esempio, prendere spunto da una varietà di esempi diversi, anche di tempi, di periodi diversi, ma riuscire a fondere questi esempi e questi spunti anche con i grandi artisti a lui contemporanei. In questo caso noi vediamo che c'è una citazione diretta, dichiarata, del Ratto di Proserpina, che è un'opera che era stata realizzata tra il 1621 e il 1622, quindi pochi anni prima, proprio da Bernini, quindi con questa sorta di associazione fra i due, uno scultore che viene completato da un punto di vista pittorico e un pittore che viene completato da un punto di vista scultorio, quindi due colleghi che riescono a scambiare in qualche modo molto delle loro idee, delle loro trovate. La svolta vera e propria avverrà, come dicevamo, nel 1925, quando Urbano VIII, già Papa dal 1923, commissionerà la decorazione del salone, oggi detto della Divina Provvidenza, col trionfo della Divina Provvidenza, dentro a Palazzo Barberini, oggi Galleria Nazionale, quindi facilmente visitabile. Quello che vediamo è qualcosa di completamente nuovo e che pur prendendo, per esempio, a modello, prendiamo ad esempio l'idea dello sfondamento della parete, questa architettura, questa volta che si sfonda in un cielo semi-atmosferico, e l'uso dell'architettura in tromplei, l'uso dei quadri riportati, medaglioni, tutti elementi che evidentemente non possono tener conto di Michelangelo nella Cappella Sistina, nella volta della Cappella Sistina, e poi del più recente Annibale Carracci in Palazzo Farnese. Ma è evidente che qui si fa un passo ulteriore, si fa un passo successivo. Questo non è un affresco, è veramente una complicatissima macchina decorativa, dove ci sono decine di figure che intervengono fra loro, dialogano fra loro, ma nel senso che ci sono scene che sconfinano una nell'altra, personaggi che sconfinano nelle scene dei personaggi che li stanno accanto. Noi abbiamo una volta che è spartita, diciamo, in cinque parti, il grande rettangolo che vedete al centro, che è la volta vera e propria, e poi le quattro partizioni laterali, trapezoidali, dove vengono raccontate scene tratte dalla filosofia, dalla teologia, dalla mitologia, in una commissione iconografica efficacissima e anche assolutamente inedita. Al centro, nella volta, vediamo da una parte appunto la divina provvidenza, che viene portata, diciamo, in trionfo, dall'altra parte il trionfo delle api barberiniane, che sono appunto con la rappresentazione della tiara papale, quindi delle due chiavi papali, che sono l'esaltazione sì dell'istituzione papale, come si vede dalle grandi chiavi, ma anche del nome dei barberini, che sta appunto nel simbolo, nello stemma delle api barberiniane. Quindi api incorniciate da loro, che vengono portate in trionfo dalle tre virtù teologali, la fede, la speranza e la carità, e dall'altra parte la divina provvidenza, che è accompagnata da tutta una serie di altre virtù, la giustizia, la misericordia, la sapienza, la verità, la bellezza, la pudicizia, e sotto stanno il padre tempo, Kronos, intento a divorare i propri figli. E poi c'è tutta una serie di scene che vengono rappresentate appunto all'atere, intorno a questa rappresentazione centrale, dove si trovano la pace in trono, il fulore incatenato, Minerva che scaccia i giganti, la religione, il contrasto tra la sapienza e la lascivia. Ma come vediamo, le figure che, come posso dire, abitano le scene laterali, superano in qualche modo i confini delle modanature, dei finti stucchi, delle finte sculture che fanno la cornice architettonica per sconfinare nelle scene successive, adiacenti e contigue. Quindi come vedete c'è proprio una volontà di drammatizzazione della scena e soprattutto di teatralizzazione della scena stessa. Se andiamo a guardare i vari dettagli, noi ci rendiamo conto appunto di quest'uso di materiali, il tentativo di fare quadri portati, materiali diversi, questa grande ricchezza decorativa. Secondo un adagio che era tipico di Cortona, Cortona scriverà che come molti e graziosi fiori rendono vago a tutti un bel giardino, così molte e varie figure cagionano che un'opera sia tale che tutti vi trovino materia per riceverne molto compiacimento. Il contrario esatto di quello che succedeva, abbiamo detto, nella controriforma. Qui vi ho messo tanti particolari per farvi vedere gli effetti, effetti di luce diversi, effetti di colore diversi, da una parte la fuscina di Vulcano, quindi questa atmosfera cupa, corrusca, con però queste armi che mandano Baglioni appena realizzate, gettate a terra, che ci ricordano sicuramente Rubens, che ci dovrebbero ricordare anche Rembrandt, purtroppo non l'abbiamo fatto. Ma insomma questa capacità, questo senso materico per le dorature, per il colore, per la luce, dall'altra parte invece la luce piena della Divina Provvidenza che viene esaltata e viene portata nella sua apoteosi, al centro vedete appunto invece l'apoteosi del nome, cioè della famiglia Barberini, nell'Istituto Pontificale, dichiarato dalle Due Chiavi e dalla Tiara. E andando avanti, impressionante, questa figura di Minerva vestita alla moderna che scaccia i giganti e che sconfina quella lancia negli stucchi, lo stesso lo vediamo in questa figura così impressionante di Crono che divora i propri figli, seduta su questa nuvola così leggera, così pannosa, che ci può ricordare tutta una serie di artisti pre-barocchi, importantissimi artisti pre-barocchi, abbiamo detto per esempio del ruolo di Correggio, per quello che riguarda l'illusione, nella costruzione illusionistica delle figure e dello sfondamento dei soffitti nello spazio, da questa parte invece in cui in questo caso vedete il furore incatenato, ma insomma il concetto è questo, la capacità di mettere insieme la fusione iconografica superba di temi e soggetti diversi, teologia, filosofia, mitologia, per esaltare il pontificato e il tema encomiastico del nome del Papa stesso. Lo Bianco parlerà di specchio e sintesi di valori di un'epoca perché effettivamente appunto in questa trionfalità, in questa ricchezza, in questa, come posso dire, esaltazione dell'illusionismo, del trompele, del tentativo di affascinare l'osservatore sta proprio tutta la sintesi di un'epoca che è quella di Bernini e quella di Borromini e quella appunto del Cavaliere Marino. Interessante il confronto, poi chiudiamo questo breve intervento, interessante il confronto che possiamo fare proprio all'interno del Palazzo Barberini con un'opera che possiamo considerare diametralmente opposta all'allegoria della Divina Sapienza di Andrea Sacchi che viene realizzata praticamente negli stessi anni, un soggetto contiguo realizzato in una sala più piccola, ma una sala attigua, quindi ovviamente abbiamo proprio il confronto diretto e qui abbiamo quello che definiamo classicismo barocco, esattamente il contrario, la negazione di ciò che abbiamo detto fino a questo momento, una chiarezza, una linearità, una modestia potremmo dire anche del colore, una ricerca proprio di descrizione, una ricerca di tipo più didascalico, una forma d'arte appunto didascalica assolutamente meno fascinosa, quindi c'è l'eliminazione totale assoluta del superfluo e quindi vediamo in questo caso il confronto, perché quello che era accaduto prima, ora ritorno un attimo indietro, è esattamente l'opposto, cioè se noi andiamo a guardare la totalità dell'opera di Pietro da Cortona ci troviamo di fronte a qualcosa di completamente diverso, lo stravolgimento dell'unità della scena, la moltiplicazione dei piani, la moltiplicazione delle prospettive, una dilatazione dello spazio attraverso il trompleil, attraverso la suggestione luministica che nella dilatazione assoluta annulla lo spazio, qui lo spazio praticamente non esiste più, questo in una parola è quello appunto che possiamo definire l'estetica barocca, quella che aveva caratterizzato Bernini, Borromini e che caratterizzerà appunto anche Cortona in chiavi diverse e nella prossima lezione vedremo altre delle opere mature di Cortona, quali saranno gli esiti appunto della sua parabola artistica più matura.